Il Carosello Sexy Disco riparte con tutto il suo carico di energia, divertimento, tante serate da ricordare e bellissime ragazze da tutto il mondo. Martedì 3 settembre, la prima serata di una grande stagione all'insegna del divertimento puro con tante novità. Infoline 051 570 500, Carosello Love & Dance, a Casalecchio di Reno, Bologna, via Bazzanese 95 Terzo, Carosello e Snop Norman Love Dance. Il Carosello Sexy Disco riparte con tutto il suo carico di energia, divertimento, tante serate da ricordare e bellissime ragazze da tutto il mondo. Martedì 3 settembre, la prima serata di una grande stagione all'insegna del divertimento puro con tante novità. Infoline 051 570 500, Carosello Love & Dance, a Casalecchio di Reno, Bologna, via Bazzanese 95 Terzo, Carosello e Snop Norman Love Dance. Il posto più morbido dove mettere il naso. Il Carosello Sexy Disco riparte con tutto il suo carico di energia, divertimento, tante serate da ricordare e bellissime ragazze da tutto il mondo. Martedì 3 settembre, la prima serata di una grande stagione all'insegna del divertimento puro con tante novità. Infoline 051 570 500, Carosello Love & Dance, a Casalecchio di Reno, Bologna, via Bazzanese 95 Terzo, Carosello e Snop Norman Love Dance. Il posto più morbido dove mettere il naso.